Il meglio degli eventi sportivi Si è rivelato un successo nella prima edizione del boccia trail e del mini trail che si è tenuto sabato mattina a forno con 250 bambini iscritti In occasione del trail del Montesoglio per la prima volta sono stati infatti realizzati due percorsi di train running a tutti gli effetti uno del boccia trail per i bambini dalla seconda elementare in su di 2 km con 150 metri di dislivello e uno per il mini trail dedicato ai bimbi dai 3 ai 6 anni nella lunghezza di 500 metri Il primo percorso presentava tratti tecnici con salite e discese impegnative su fondo naturale mentre quello per i piccini, più semplice, si è snodato intorno al palazzetto Sergio Menetti Una prova a quella del boccia trail tutt'altro che semplice ma in cui tutti i bambini si sono dimostrati uforici attenti, preparati e si sono soprattutto divertiti E' stata sicuramente importante per tutti i ragazzi questa nuova esperienza del trail soprattutto per i suoi insegnamenti, aiutare gli atleti in difficoltà ma anche educazione e rispetto verso la natura Dopo lo sforzo di tutti i bambini sono stati premiati con un gustoso ristoro e una bellissima medaglia Grazie a tutti Il meglio degli eventi sportivi